Allora ragazzi, a fine giornata, come vi siete trovati con noi? Allora, noi li abbiamo conosciuti su matrimonio.com Ci siamo affidati alle recensioni di tutte le persone che hanno recensito la vostra pagina Ma forse le recensioni non bastano proprio a descrivere quello che trasmettete Guarda, è stato il matrimonio più bello di sempre Non esitate perché quello che magari potete pensare in realtà lo è Anche gli stessi video che loro comunque pubblicano, fanno, sono bellissimi a vedere Ma forse a viverli è tutta un'altra cosa Sono due persone fantastiche Poi riempiono tutti gli spazi Tu vai a fare le foto loro, sta a fammacello proprio No, no, no Abbiamo avuto i complimenti da tutti Da tutti, guarda, consigliatissimi Sono allo stesso tempo raffinati perché rispettano tutte le volontà delle persone Se non vuoi quello, sono abbastanza condicendenti Comunque noi ci risposeremo proprio perché rivolgiamo la stessa festa Sì, se no noi facciamo il matrimonio, facciamo il battesimo, vi chiamiamo lo stesso Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao 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 Ciao